Come è andato questo viaggio? I molti turisti italiani e pugliesi in particolare rientrati nel pomeriggio a Bari dopo aver trascorso l'ultima settimana in Egitto non hanno sopportato quasi alcun disagio per la guerra civile in atto nella capitale e in alcune grosse città, come conferma il cineoperatore Vito Cavone. Viaggio bene, la permanenza bene, molti allarmismi ma inutili, molta indecisione da parte dei tour operator che non sapevano cosa dire, dicevano che la situazione era tranquilla, poi invece sono arrivate delle voci che c'erano nei carri armati a Charm, falsa ovviamente la voce, che altro? Molte chiacchiere. Paradossalmente le preoccupazioni maggiori le hanno vissute gli amici e i parenti rimasti in Italia. Stavamo a Bari a aspettare con ansia questo rientro perché eravamo preoccupati della situazione in Egitto e di come si sta evolvendo ancora la situazione, non è semplice. Avere una sorella lì a Charm e Sheik ci ha tenuti un po' su di corda. La mobilitazione contro il presidente Mubarak però una ripercussione indiretta la sta avendo anche sul paradiso dei turisti. Preoccupazione solo per quello che hanno detto in Italia che non è assolutamente veritiero perché Charm è molto tranquilla, veramente molto tranquilla. I villaggi stanno chiudendo tutti grazie sempre a quello che si è detto in Italia perché purtroppo non è vero niente, non è vero che ci sono carri armati, non c'è nulla. Charm è sereno, il problema c'è solo al Cairo e questa è una cosa grave perché tanta gente perderà il lavoro e rimarrà senza nulla.